Anche la crisi economica colpisce duramente il pane che è sempre stato un alimento che sulla tavola non è mai mancato, Diego Daniele. Sì, hai detto benissimo. Nel corso degli ultimi anni si è verificata una controtendenza. Vuoi anche per questa crisi economica? Sono stati un congatenarsi di fattori, secondo me. Prima di fra tutto anche una diversa abitudine alimentare da parte dei nostri giovani, che tendenzialmente sono meno abituati a mangiare questo tipo di prodotto, che, come abbiamo detto, è stato sempre il punto forte della nostra produzione, specialmente nella nostra terra. Poi per quanto riguarda la crisi abbiamo notato con i colleghi che c'è stata un'accortezza diversa nell'acquisto del prodotto stesso e quindi di conseguenza tutti questi fattori hanno fatto sì che la produzione del pane, diversamente nei nostri vari punti vendita, nei vari panifici della città, sia diminuita del 30%. A questo la cosa che più ci preoccupa è che paradossalmente c'è stato un aumento esponenziale di tutte le materie prime, non parlo solo della farina, perché naturalmente la farina sia la nostra materia prima di base, però ci sono tutti quegli altri elementi, tutti quegli altri fattori che fanno venire i costi di produzione che sono aumentati in maniera esponenziale. Parlo della corrente elettrica, parlo del gas per chi ha il panificio attrezzato a gas, parlo di tutte queste cose che sono quelle voci dei costi che in questo momento ci viene difficile sostenere e in questo momento ci viene difficile da poter affrontare. A ciò aggiunti che c'è stata una liberalizzazione selvaggia, secondo me fatta in maniera scellerata, perché è vero che ci doveva essere la liberalizzazione, naturalmente il discorso del panificio numero chiuso doveva finire, però era anche vero che potevano demandare tranquillamente ai comuni territoriali, ai comuni che conoscono la situazione e la realtà della propria città, la disposizione di nuove aperture. Onde evitare di vedere delle cose antipatiche, tipo un panificio che apre di fronte a un altro panificio e quant'altro, perché così se il loro intendimento era creare libera concorrenza e creare economia, non ha fatto altro che distruggere un gombarto completamente, perché negli ultimi anni, ma sono dati statistici questi, lo possiamo fare a Canicattico ma lo possiamo fare in tutto il resto dell'Italia, si è riegi stato nei vari panifici un aumento vertiginoso di quelli che sono i licenziamenti, ritornando dei dipendenti, ritornando a quella che poteva essere una conduzione pressoché familiare, quindi io non capisco questa economia, non capisco questo indotto, non capisco questa nuova forza lavoro che volevano creare. Poi aggiungi pure la liberalizzazione totale degli orari che si può aprire ora qualsiasi giorno, qualsiasi momento, si apre la domenica, tutto questo a discapito della nostra famiglia, a discapito della nostra vita, perché sono fatte delle battaglie storiche per acquisire dei diritti, diritti che nel corso di questi tre anni, questo pseudo governatore che abbiamo, questa gente messa lì, non eletta dal popolo, ci tengo a ribadirlo, hanno praticamente bruciato distruggendo quella che era una categoria. Ti dico che noi quando ci riuniamo con i colleghi, prima c'era l'orgoglio di parlare della nostra categoria, ora questo orgoglio purtroppo non c'è più, perché ogni mattina quando ci alziamo per venire a lavorare sappiamo che dobbiamo affrontare dei problemi, 15 ore di lavoro al giorno, per poi vedersi bruciato, vedersi praticamente sottratto tutto quello che è la nostra forza lavoro, la nostra attività, tutto quello che noi mettiamo all'interno. Spero che la situazione cambi. Per quanto riguarda per il resto, io in questo momento non ci sono previsti nessun tipo di aumento del pane, perché con i colleghi non abbiamo ritenuto opportuno mantenere stabile in questo momento. Non so fino a quando potrà durare, però in questo momento è così e vedremo quello che succederà più avanti.